Allora, signor, anzi vicepresidente, tra le varie problematiche, rogne si dice così, problematiche comunque da affrontare, avete voi del lanci, discusso anche più volte quella dell'Imu sui terreni agricoli, come è finita questa querela, questa avvertenza, che cosa vi coinvolgeva insomma? Allora, coinvolgeva soprattutto i comuni, come si diceva, montani, quindi una porzione dei comuni del Veneto per un totale più o meno di 5 milioni di euro, dopo... Quindi un valore rilevante sostanzialmente? Sì, sì, perché ne diamo già tanti risorse, per questi comuni chi ha 100 mila euro, chi 80, è chiaro che sono... Perché andavano direttamente ai comuni questi soldi o allo Stato centrale? Vanno allo Stato, poi lo Stato te le ridà, perché funziona così, le tasse comuni con l'F24, vanno allo Stato, lo Stato poi te le ridà. È chiaro che lo Stato ha detto, bene, io te li trattengo, perché io calcolo che a te devono entrare queste risorse, me le trattengo, Poi se riesce a andarle a prendere o no, perché succede che magari uno è un piccolo proprietario, quindi è esentato perché non ha le metrature sufficienti, però tanti piccoli fanno uno grosso, lo Stato lo considera grosso, per il Comune sono tanti piccoli, quindi non si riescono a realizzare queste entrate, ma lo Stato si trattiene però, diciamo, i trasferimenti, i comuni vanno in doppia sofferenza. La grande battaglia che c'è stata è stata quella di far capire che le montagne non hanno bisogno di ulteriori balzelli che facciano scappare via chi le accudisce. Si cerca anche magari con delle politiche anche regionali di incentivare a rimanere, a coltivare le montagne, a vivere le montagne. Quindi la proposta che è stata fatta è stata quella di tornare indietro, è stata colta per metà, nel senso che alla fine verranno prelevati 2 milioni e mezzo sul Veneto, esentando quelli che sono completamente montani. Per quelli che sono parzialmente montani rimane invece questa gabella, quindi questa nuova tassa, con agricoltori che non sanno quanto devono pagare, comuni che fanno fatica a dire quanto mi devi dare. È veramente una situazione incredibile. Qualche sindaco, c'era Ellen Cavazza, sindaco di San Giovanni Larione, che faceva una proposta, lei ha il problema perché il Comune è parzialmente montano, faceva la proposta di non pagare allo Stato l'equivalente di quello che lo Stato si trattiene sull'Imu. Chiaro che quello come Angi si è fatto fatica a sostenere come protesta, nel senso che noi diamo solidarietà a chi decide di farla. Era difficile sollecitare noi questa protesta perché poi ci sono delle ripercussioni per chi naturalmente mette in moto questo meccanismo. Lei si fa invece portatrice di questa protesta perché ritiene, come tutti noi, detta all'ultimo minuto, mettendo in difficoltà comuni, agricoltori, proprietari terrieri, in difficoltà anche solo per capire quanto devono pagare. È sempre quel sistema che da anni sta mettendo in grande difficoltà i comuni, ti danno le regole del gioco a fine partita. Noi sappiamo quanti soldi ci danno lo Stato, ci trasferisce lo Stato a fine anno, fino ad allora o facciamo un bilancio di previsione. Infatti qui entriamo nel discorso dei bilanci dei comuni. Cioè che voi non riuscite in qualche modo a poter prevedere, a calcolare e anche a pagare i fornitori. Un degli esempi molto pratici come li faceva prima. Allora sostanzialmente noi abbiamo il patto di stabilità che ci mette in difficoltà nel momento in cui abbiamo dato la competenza al lavoro, all'opera pubblica, quindi abbiamo detto con che soldi li paghiamo. Nel momento in cui andiamo a pagare andiamo in sofferenza con la cassa, quindi magari rimandiamo il pagamento all'inizio dell'anno successivo, invece di pagare a ottobre paghiamo a gennaio, però quelli poi sono dei pagamenti e delle uscite di cassa che ti mettono in difficoltà l'anno prossimo a rispettare il patto di stabilità perché le entrate dell'anno prossimo servono per compensare quelle uscite lì, quindi tu ti trovi da fare avanzo di amministrazione perché non puoi spendere soldi che hai in cassa. Quindi il meccanismo del patto di stabilità è stato un meccanismo perverso che negli ultimi anni ha veramente bloccato ogni lavoro che un comune possa fare. Continua a bloccarlo? E continua a bloccarlo, addirittura adesso mettono anche l'obbligo per quest'anno del bilancio tradizionale, del bilancio armonizzato. Cos'è il bilancio armonizzato? Per arrivare l'anno prossimo da avere completamente tutti e solamente il bilancio armonizzato. Il bilancio armonizzato sostanzialmente se prima dicevi siccome avrò questa entrata faccio questo lavoro e poi magari l'entrata si realizzava entro il fine anno, adesso devi aspettare a fare il lavoro che si sia realizzata l'entrata. Questa è per dirla che si riesca a capire a grandi linee quella che è la grande... Per cui anche solo noi come Anci stiamo facendo fatica a incassare le adesioni, le quote di adesione all'Anci dai comuni perché i funzionari fino a quando non è approvato il bilancio di previsione per colpa del bilancio armonizzato vogliono pagare in dodicesimi quindi dovrebbero in teoria pagarci mese per mese la quota di adesione all'Anci. Quindi andiamo in difficoltà anche come associazione perché non arrivano queste entrate. Per cui diciamo che in aggiunta al problema del bilancio del patto di stabilità si va a sommare anche questa difficoltà del bilancio armonizzato che oltre a creare incertezza perché non si sa, i funzionari non cora bene, non sanno come funzionerà ti crea un anno di stasi perché devi aspettare che si realizzino le entrate per compensare le uscite che hai realizzato sulle opere dell'anno scorso. Poi ti servono le entrate perché finché non si sono realizzate non puoi impegnarle nei lavori per cui si crea un anno di vuoto in cui anche gli amministratori si trovano lì ad amministrare nulla in una situazione anche imbarazzante sinceramente. E' anche difficile, infatti le opere pubbliche necessarie, cioè quali sono le vostre priorità e come riuscite anche a realizzarle? Lei facciamo un esempio di una rotonda. Può essere la rotonda, la riorganizzazione di una piazza, può essere una zona degradata che deve essere riqualificata un paese pian piano va avanti a mettersi in ordine, non puoi in questa situazione fai fatica a fare la manutenzione, a mettere i 10 mila euro per chiudere le buche pensare di mettere un milione di euro per fare degli interventi importanti non è neanche pensabile Qual è il settore che viene penalizzato per primo? Ci sono delle priorità oppure? Insomma allora vengono di sicuro le opere pubbliche, vanno messe in stand by e quello tu avevi fatto dei progetti, avevi creato un programma elettorale anche su dei lavori che... Questa è l'altra componente Oddio, un amministratore fa anche quello, fa delle promesse si prende degli impegni nei confronti dei suoi cittadini e poi vorrebbe poter anche portare a termine questi impegni che non sono stati trovati nel libro dei sogni ma sono cose concrete che soprattutto in un'amministrazione umana nostra che aveva 5 anni di esperienza ha fatto a ragion veduta chiaro che poi invece ti cambiano le situazioni da un giorno all'altro le peggiorano sempre di più, ti trovi veramente a far fatica adesso noi stiamo andando a inaugurare qualche struttura che è stata avviata nella precedente amministrazione e che andiamo a concludere però mettere in campo altre opere non ci sono le condizioni e noi avremo impianti sportivi dove mancherebbe uno spogliottoio mancherebbe un campo sintetico ci sarebbero delle cose che le associazioni ci fanno presente perché c'è un bel giro anche nel mondo sportivo i ragazzi partecipano, hanno bisogno di... abbiamo fatto un campo da rugby 5 anni fa bisognerebbe fare lo spogliatoio perché va in sofferenza lo spogliatoio del campo da calcio non sono neanche grandi cifre però tra quello un campo sintetico e un po' di cose che mancano un milione di euro lo potresti mettere negli impianti sportivi e non puoi neanche sognartelo quindi diciamo che da quello a strutture scolastiche piuttosto che altre diventa veramente difficile e ci sono cose che sarebbero anche previste per legge per cui andare a mettere la norma l'antisismica piuttosto che... sareste anche tenuti a farlo soltanto non ci riuscite a stare ecco la provocazione... è difficile perlomeno quali sono i rischi se non si rispetta questo patto di stabilità se non ci si attiene a queste... allora il patto di stabilità se io lo sforo per 100.000 euro l'anno prossimo è una penalità di 200.000 quindi c'è una precisità se ho fatto fatica quest'anno e ho sforato per 100 l'anno prossimo l'obiettivo me lo abbassano di 200 diventa veramente... poi ci sono penalità sui compensi degli amministratori e quello sarebbe anche lo stesso ma anche sui compensi per esempio dei funzionali per cui diventa difficile sforare il patto di stabilità anche in maniera volontaria anche perché devi avere la complicità tra virgolette del funzionario del sistema poi se invece manca qualche entrata e lo sfori senza volerlo insomma quello per carità può succedere però qualcuno lancierebbe anche l'idea di dire lo sforiamo in maniera volontaria deve avere la complicità del funzionario perché se non ti firma i provvedimenti il funzionario come politico o amministratore poco riesce a fare ecco c'era stata un'altra cosa che poteva interessare è il discorso dello statuto speciale lo statuto speciale mentre il governo lavorava sulle modifiche costituzionali la Lega ha fatto una proposta di emendamento per riconoscere al Veneto lo statuto speciale come c'è in altre regioni per cui per noi niente di scandaloso come Anciveneto abbiamo votato all'unanimità in direttivo Anciveneto di sostenere questa proposta fatta dal governatore Zaia e portata dai nostri onorevoli votata all'unanimità quindi in maniera trasversale da tutti gli amministratori di qualsiasi appartenenza politica perché è un tema che a livello Veneto è molto sentito e più Roma chiude i rubinetti nel senso o li apre i nostri nei suoi confronti e più diciamo si sente forte la necessità di tutelarsi quindi l'abbiamo votata all'unanimità peccato che poi quando l'hanno votata a Roma non hanno bocciato l'emendamento da tutti tranne l'abbiamo votata solo noi i nostri onorevoli della Lega gli altri hanno votato contro per cui diciamo che non è passato e quindi è rimasta se non altro un bel segnale politico io voglio... Ma qui in regione Veneto era stato sostenuto a livello trasversale da tutti i partiti o soltanto dagli esponenti della Lega? No, 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 qui Anci Veneto ha votato in direttivo all'unanimità quindi a prescindere dall'appartenenza politica da tutti il sostegno a questo emendamento e questo non è stato compreso invece a Roma questo non è stato compreso dopo noi è anni che diciamo che i partiti purtroppo sul territorio predicano in una maniera poi quando sono a livello nazionale a Roma devono fare altre dinamiche perché alla fine poi loro, noi meno come partito perché siamo territoriale e vogliamo rimanere territoriali per quello chi la poi ha dalla Sicilia fino alla Valle d'Aosta chiaramente è un'altra questione è un'altra questione per cui predicano l'autonomia qua sul territorio poi a Roma Ecco, l'autonomia cosa avrebbe comportato? Quindi è saltata definitivamente a questo punto l'idea di attuazione? Sì, dopo noi io spero che si continui il processo C'è stato tutto speciale neanche autonomia quello è stato tutto speciale diciamo bene c'è in Sicilia c'è in Valle d'Aosta c'è in Trentino lo vogliamo anche in Veneto Cosa avrebbe potuto comportare? Io adesso non sono un tecnico di sicuro se avessimo i privilegi che ha il Trentino Alto Adige nella quantità di risorse cioè che i nostri cittadini pagano e che rimangono sul territorio di sicuro si riuscirebbe a dare dei servizi all'altezza delle aspettative perché quando uno paga la quantità di tassa che paga la nostra azienda il nostro cittadino dovrebbe avere dei servizi anche di conseguenza per cui io sto pensando a tutti quei supporti alla famiglia perché possa lavorare anche la donna perché tutti quei bei sostegni che anche nei comuni sentiamo l'esigenza di dare a queste famiglie perché se lavorano in due poi ci sono delle dinamiche che costano e che andrebbero sviluppate tutti portano i bei esempi dei paesi del nord peccato che poi alla fine non abbiamo le risorse che hanno i paesi del nord per metterle in atto quindi andiamo in Trentino a vedere che bei servizi danno però poi alla fine noi non possiamo essere in attrezza però poi alla fine mi metti una tassazione che è quattro volte quella quattro volte per essere generoso quattro volte quella che hanno loro perché se a noi rimanesse il 70, l'80, il 90% di quello che paghiamo potremmo veramente far costare meno i servizi o comunque darne di migliori assolutamente allora abbiamo la pubblicità torniamo tra pochi secondi che... grazie a tutti grazie a tutti